Il parrucchio di mia madre fa anche bene le mani, poi mia madre dice sempre che sono così palida. Se no invito pure Maria, succede veramente un macello, non mi sembra proprio il caso. C'è essere un motivo per lamentarsi. Però io sinceramente Marta non la sopporto, perché alla fine Maria ha sempre dei capelli così palida. Impara a capire quando è il momento di fermarsi. Luca in porta, Paolo, Ivan Gennaro e Giacomo. Non guidare senza sosta, guida in sicurezza.